la Ministra della Salute Lorenzin, che peraltro ha già attivato il Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare, a confermare con la loro dichiarazione che nel nostro Paese abbiamo i più alti standard qualitativi e di sicurezza a livello mondiale sulla produzione e lavorazione delle carni. In più nel nostro Paese il consumo è a metà della soglia di rischio indicata dalla stessa OMS, in coerenza con la dieta mediterranea che assicura le più lunghe aspettative di vita. Questo mio intervento vuole essere quindi un invito al Governo affinché nel più breve tempo possibile fornisca ai consumatori gli elementi di chiarezza necessari al ripristino di una corretta informazione, strumento indispensabile per scegliere cosa mettere sulle nostre tavole. Ringrazio il collega Zio Primo Casati, prego. Grazie Presidente, buonasera colleghi. Io intervenivo nell'ambito della pianificazione sul cambio di destinazione d'uso da diritto di superficie in diritto di proprietà nei piani di edilizia economica popolare. Perché nella legge di stabilità, all'articolo 1 del coma 392 della legge di stabilità del 2014, si è creata una diversa interpretazione che alcune Corte dei Conti hanno così interpellate, hanno sentenziato, creando di fatto la nascita dei comitati dei cittadini sui territori. Perché non è chiaro se alla scontistica creata e realizzata a favore di chi opta per passare da diritto di superficie in diritto di proprietà, c'è per esempio la la Corte dei Conti per gli enti locali della Regione Lombardia che di fatto si allinea a quanto deciso nella legge di stabilità del 2014 e invece c'è quello di Roma che dice esattamente che le scontistiche non sono assommabili. Questo crea un momento di disagio anche per i comuni perché da questo punto di vista i comuni, oltre che poter incassare risorse importanti sia per l'housing sociale che per le opere pubbliche, e quindi invito il Governo a porre chiarimenti sulla questione, invito i membri della Commissione Finanze della Camera a farsi promotori di una rapida soluzione di questa diatriba che si è creata. Grazie mille. La ringrazio. Adesso il collega Massimo Baroni. Prego. Presidente, la capitale morale sono tutti i cittadini onesti di tutte le città d'Italia che combattono contro la corruzione con ogni mezzo, spesso rischiando di proprio mobbing, minacce e licenziamenti. Altri cittadini, al contrario, non sanno nemmeno del loro diritto all'accesso civico garantita dall'autorità nazionale anticorruzione. L'accesso civico è una forma di partecipazione del cittadino per garantire la trasparenza degli enti pubblici che noi abbiamo pubblicizzato a Italia 5 Stelle il 17-18 ottobre con un apposito gazebo dedicato che ha avuto un enorme successo di pubblico. Roma è conciata da far schifo, ma l'inno a Milano, capitale morale da parte del presidente dell'autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, è stonato e sciocco. Expo ha scoperchiato un sistema di tangenti a pacchi. A Milano hanno sede alcune banche al centro di indagini pesantissime coinvolte con la mafia siciliana. Formigoni se ne è dovuto scappare a gambe levate. Maroni è sotto indagine. L'ex assessore alla sanità lombarda della giunta Maroni è stato arrestato esattamente 15 giorni fa per corruzione aggravata. Cantone è un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Oggi abbiamo deciso di sostituirci a lui. Visto che lui lavora da politico, noi lavoreremo...